Questo video lo faccio solo per voi! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e mateta, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è Giombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te Sì, lo faccio solo per voi e per la miriade ragazzi La miriade di richieste che mi arrivano su video tutorial per Halloween Come sapete io non festeggio Halloween, festeggio la festa dei morti La nostra festa, però ogni anno cerco di fare dei lavoretti Che possano essere versatili sia per l'una che per l'altra Oggi vi propongo una lanterna Una lanterna misteriosa Vedrete che sarà una lanterna che potrete utilizzare anche cambiando un pochettino i soggetti per Natale Quindi l'idea mi piace proporvela proprio perché è versatile Anche per delle feste estive Cioè la lanterna è bella di per sé La faremo con la carta pergamena Vi ricordate la simil pergamena che abbiamo fatto insieme? Vi metto qui il link del video E basta parlare Spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a creare la nostra lanterna per girare nella notte di anno Ed ecco l'occorrente per creare la nostra lanterna magica Sia che sia per Halloween sia che sia per altre festività Innanzitutto il corpo della lanterna Verrà dato da una confezione di queste in tetrapack Questa è di latte Che io però ho avuto l'accortezza di vuotare dal centro Cose che accadono solo nelle case di chi fa lavoretti Con un coltello pulito ho aperto e svuotato Questa confezione da mezzo litro di un qualunque latte Un acrilico nero Un acrilico dorato Un bicchiere con dell'acqua Un piattino Un pennello scarso di queste a setole rigide O uno spazzolino da denti vecchio Pennelli, io preferisco quelli piatti, da combattimento Tita E un pennarello di questi indelebili Forbici Taglia a balza La mitica attacca tutto Reghello o squadretta Poi un cartoncino Uno stuzzicadenti E una perlina Di qualunque colore Tanto dovremo ritingerli Quindi stuzzicadenti e perlina L'importante è che lo stuzzicadenti vada ad infilarsi all'interno dell'imboccatura della perlina Uno scotch molto persistente Con un potere adesivo molto tenace Io qui ho il Leocoplast Ma potete usare anche un buono scotch carta se volete Un materiale un po' particolare Che trovate in tutti i negozi di Belle Arti E trovate anche in tutte le cartolerie Sono quei colori a rilievo Questo è un oro a rilievo C'è anche l'argento, il nero, il bianco Sono questi colori che vengono venduti con la loro punta a parte Per applicazioni a rilievo che vengano fuori dal manufatto che andremo a fare La nostra carta pergamena La similpergamena che abbiamo fatto insieme nel video precedente Se vi siete persi il video cliccate qui Qui E accederete direttamente al video in cui vi insegno a fare questa semplicissima tipologia di carta Una semplice carta similpergamena senza aggiunta di vinavil E ci occorrono anche 4 spiedi E poi per illuminare la nostra lanterna delle candeline elettriche Non usate mai candele vere per supporti in carta o in plastica Mi raccomando O queste o le lucine di Natale Quelle sempre elettriche a led Con la batteria che si infilano dentro Cominciamo subito Innanzitutto prendiamo la nostra scatolina E creiamo le nostre faccettine su cui andremo a lavorare Giusto appunto qui Sono fortunata In un lato della mia scatoletta c'è una forma che mi piace Molto 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 E quindi io ricalcherò questa sagoma per delinearmi quello che sarà poi L'andamento di tutte e quattro le facciate Et voilà La prima faccina è pronta Adesso Rifaccio la stessa cosa da tutte le parti Ed ecco qui la sagoma della nostra lanternina Bella e tagliata Adesso però dobbiamo fare un altro taglio Un taglio che apra una finestrella del tutto all'interno della nostra lanterna Possa essere aperta e chiusa Fatto questo faccio anche un decoro carino Qui In modo che la lanterna abbia una forma graziata Anche nella parte superiore E ritaglio Benissimo Adesso cominciamo a rendere un po' più stabile questa lanterna Che ancora tanto stabile non è Prendiamo la nostra attacca a tutti i nostri spiedi E come prima cosa Prendiamo la misura da terra Fino all'apice Mantenendo la punta però E spezziamo il bastoncino Che andrò ad inserire Ad ogni angolo Così infilzo la punta Nell'angolo E tendola Uno In modo da dare maggior sostengo alla lanterna Adesso vado a mettere la colla Per incollarli questi paletti E renderli stabili Quindi con l'attacca tutto Li ritolgo a uno a uno Imbibisco bene la parte superiore E la parte inferiore di colla Così E Con molta noscialanza Prima la punta Dai e le punta Dai e le tacco E infilo ben bene E tolgo l'eccesso di colla Se esce da un lato Questo potete farlo anche con la colla a caldo A questo punto dobbiamo creare il modo per aprire e chiudere a nostro piacere questa scatolina E quindi entra in gioco il nostro scotch carta o il nostro leucoplasto Ne prendo un pezzo Taglio E taglio Un po' Da una parte E lo incollo su se stesso Così Quindi ritaglio questa fascetta Che ho incollato su se stessa Tolgo l'eccesso Ritaglio questa Lascio soltanto la fascettina pulita Incollata su se stessa E un pezzettino Dopodichè metto Lo stuzzicadente A prendere proprio la misura Affinché Proprio si chiuda Quindi Così Si chiuda senza incollare lo stuzzicadente ovviamente E Sacchete Perfetto Ho creato il mio primo occhiello E pop Lo metto da parte Ora creo il secondo occhiello Nella medesima maniera E adesso Appiccico Con la colla Un occhiello qui In modo che esca così E un occhiello qui Vi faccio vedere Ad appiccicare Dietro il bastoncino Qui Tac Il mio primo occhiello Metto un po' di colla Anche da questo lato In modo che stia tutto fermo E a suo posto E ovviamente Da asciutto Taglieremo L'eccesso Che fuoriesce da questo lato Facciamo la stessa cosa Anche di qua Come dobbiamo farlo? Così guardate Chiudiamo la portierina E posizioniamo il nostro occhiello Proprio sotto quello precedente Così Ok Quindi Portiamolo via con noi Mettiamo la colla Proprio qui E appiccichiamolo Tac Metteremo il terzo occhiello Andiamo a creare Le nostre sagome Che vogliamo Si vedano Dalla lanternina Ovviamente Se vogliamo Che si vedano Dalla lanternina Devono rimanere Alloggiate All'interno Dello spazio Visibile Quindi Disegno le sagome E disegno anche I vari soggetti Al loro interno Ok Fatti i nostri soggetti Cominciamoli ad intagliare Questa è la parte più antipatica Perché dobbiamo Immaginarli Come illuminati Quindi dobbiamo Immaginare solamente Disegnata La parte che vogliamo Venga illuminata Quindi Per esempio Se del ragnetto Voglio che si illumini Il filo Intaglierò Sicuramente Il filo Tagli sottili Dovrò Naturalmente E tanta pazienza Andare a liberare Le fessure Per far uscire La luce Quindi piano piano Il filo Capite bene Che sono tutti i tagli minimi Quindi state molto attenti E piano piano Ricavatevi tutte le immagini Alla fine Ecco tutte le forme intagliate Saranno questi Quattro soggetti Che si vedranno Dalla nostra lampada Se vi state chiedendo Perché ho scelto Di fare una cosa Così Perniciosa Su una cosa Così futile Come una lanterna Per Halloween E' proprio perché Non voglio fare Tre video Dove si fanno cose Giusto per quella Ricorrenza E poi da buttare Voi la tecnica Dell'intaglio Una volta capito Come funziona Potrete utilizzarla Per duemila Modi di fare Creatività Così come Faccio per le cover Per esempio Le tecniche Che vi insegno Nel Immettere qualcosa All'interno di una cover Sono delle tecniche Che potrete utilizzare Anche in altre situazioni Così si possono fare Gli stencil Così si possono fare Dei biglietti stupendi Delle partecipazioni sublimi Basta avere La pazienza E la pazienza Si sviluppa praticandola Noi dobbiamo fare Le cose fatte bene Seppure sia solo per Halloween Che poi vi ho detto Che queste lanterna Potrete usarle anche Per Natale Pasqua Epifania Una sera romantica Insomma Come vi pare Adesso prendiamo Il nostro acrilico Nero Un pennello E intingiamo E spennelliamo Su tutto Nel frattempo Già che siamo ancora Sporchi di colore Prendiamo Il nostro Stuzzicadenti Mettiamo Un po' di colla Qui Sull'apice Voilà Inseriamo La nostra perlina Vi ho detto Di qualunque colore Non è importante Togliamo L'eccesso Di colla Togliamo Anche L'eccesso Di legnetto Quindi Incastriamo Bene Tac Voilà E dipingiamo Anche questo Di Ho parlato Da sola Con la videocamera Ho fatto anche Il passaggio successivo E voi non c'eravate Dove eravate Ragazzi Che testa Che ho Che testa Allora Infilate i guanti Premete un po' di dorato Sul piattino Quindi Con un pennello Dalle setole Un po' rigide Imbibite Dopo aver Pucciato il pennello In un po' d'acqua Quindi rendete Più liquido Il colore Quindi Dovete creare L'effetto Ferro battuto Questo effetto Qui Per intenderci Come? Basterà Ora io Esagererò Spruzzare Con il pennello Tirando indietro Le setole E lasciando andare Verso Verso il manufattino Così vedete Quando siete soddisfatti Del grado Di Spruzzettamento Fermatevi E lasciate asciugare Il tutto Perfettamente A questo punto Guardate Già che carina La nostra La nostra struttura Della lanterna Con tutti gli schizzi Di dorato Che riecheggiano Un pochettino Le luminescenze Del ferro battuto Come vi dicevo Ora Sono indecisa Sul da farsi Ma io direi Subito Di attaccare La La carta forno In modo Da poi Proseguire Con il lavoro In tutta Tranquillità Prendo Prendo Una carta forno Quella meno scura Piego A metà E Prendo La misura Dell'altezza Con una matita Verrà sicuramente Piorgevole Essendo questa carta forno Non trattata E me la ripropongo In più punti Quindi qui Poi vado avanti Qui Con il righello Possa fare Una sorta di Pseudolinea dritta Pseudo Dritta E Quindi A questo punto Tagliare la quantità Di carta Che mi interessa Che sarà Questa striscia In doppio Con un poco Di Attacca tutto Passo Sulla riga Inferiore Così E faccio in modo Che le due metà Rimangano Il più Adese Possibile Adesso Devo cominciare Ad attaccare La mia Carta forno Dentro Ad Dentro Alla mia Lanterna Posso decidere Se fare un'unica striscia Farla partire da qua E farla passare Tutto attorno Vedete Oppure Se tagliare I rettangolini Ad uno ad uno Quindi Farli aderire Singolarmente Facciamola Sportellino Per sportellino E' più facile E allora Prendo la misura E attacchiamo Cercando di Lasciare i margini Sempre ben puliti Per quello che si può E tagliando Ovviamente L'eccesso in basso Così Questo sarà l'effetto Incollata Tutta la carta Su tutti e quattro i lati Passiamo All'ultima operazione Prima di concludere E adesso Con l'oro a rilievo Vado a Ornare Ogni lato Della mia Lanternina All'ultima operazione All'ultima operazione Ok Finito di decorare La lanterna Non ci rimane Altro che Tagliare in forma Le nostre mascherine Queste mascherine Saranno intercambiabili Quindi Adesso che Halloween Le useremo Con i simboli di Halloween Ma Un domani Se vorremmo mettere Delle stelline O dei cuoricini Per San Valentino O semplicemente Dei soggetti Così Magari un gatto Qualcosa che si veda In positivo e negativo Sarà facilissimo Riproporlo E quindi Metterlo In lanterna Una volta Ritagliati I nostri soggetti Della giusta misura Non servirà altro che Infilarli All'interno Della Lanterna E Poggiarli Il più vicino Possibile All Alla pergamena Loro staranno Lì Dove li fissate Specie perché Mettendone quattro Si andranno a incastrare L'uno con l'altro Fisso L'ultimo Dei soggettini Faccio asciugare Perfettamente Il tutto Spengo le luci Accendo la lanterna Faccio le foto E vi faccio prendere Un colpo Però poi questa La usiamo anche Per Natale Bene Vi lascio le foto E noi Ci rivediamo di là Carina la nostra lanterna Davvero basta cambiare Qualche particolare Passa Halloween E può essere adattata A qualunque Qualunque Ricorrenza Bene Poi non ditemi Che non vi voglio bene Vedete Cerco di piegare Anche le mie idee Alle vostre esigenze Bene Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi aspetto sempre Su Facebook Vi aspetto sempre Su Instagram Vi metto le foto Qua sotto Nel box informazioni E soprattutto Vi aspetto Il 22 novembre A Bologna La fiera del mondo creativo La fiera della creatività Dell'arte Della decorazione Vi aspetto tutti Per incontrarci Terzo incontro Nazionale di arte per te Vi metto sia qua Che nel box informazioni Il link del video Dove ve ne parlo Dettagliatamente E spero di incontrare Il maggior numero di voi Non mi rimane che salutarvi Mandarvi un grande bacio E ci rivediamo al prossimo video Da Ombretta e Dart Per te è tutto Alla prossima volta